E fra poco vi stupiremo perché ci sarà una sfilata sempre romantica, sempre amata da tutti, vi inizio gli abiti da sposa. Quanti ragazze e ragazze vedremo sfilare sul palco, sulla passerella? Oggi abbiamo preso nove ragazze, tutte molto giovani, perché vogliamo presentare un prodotto giovane che essenzialmente non sarà solo il bianco ma qualche punta di colore per dare un po' di vivacità e lo vedrete nella nostra sfilata. Ci può dare anche qualche anticipazione ad esempio, non so, gli ultimi modelli, quelli che sono più richiesti? Ma diciamo la clientela richiede tanti modelli perché non c'è un prodotto specifico che è annuale. Ogni ragazza c'è chi piace l'abito lungo, chi è corto. Anche in base alla propria fisicità magari. Noi diciamo che il fisico incide perché noi dobbiamo esaltare la persona, per cui una ragazza ha un determinato fisico gli diamo un consiglio di un determinato abito, però io consiglio quest'anno abiti colorati. Ne vedrete delle belle, come si può dire, no? Sì, sì, noi siamo curiosissimi, però intanto ricordiamo a casa dove si trova il vostro showroom. Il mio showroom si trova a Fossumbrone, con Sugeppe Garibaldi nel corso. Emotion. Emotion Sposi. E lì sicuramente la clientela potrà anche approcciarsi con voi, richiedere tutte le informazioni. Riuscirete a dare il consiglio giusto? Sì, 45 anni di questo mestiere, un'esperienza ce l'abbiamo, gli possiamo dare i nostri consigli. Noi volendo gli facciamo anche il wedding plan, glielo facciamo anche a livello gratuito perché l'esperienza noi non la facciamo pagare, ma se hanno anche una chicca di fantasia diversa abbiamo una stylist interna che gli sicuramente gli farà l'abito che vuole. Oltre al colore, una curiosità, per quanto riguarda il tessuto, ad esempio va ancora il pizzo? Il pizzo è un po' di anni che va, però vendo anche il micado e lo chiffon quest'anno si vende. Elegantissimo. E' molto elegante, sì, specialmente per il periodo estivo, questi abiti qui sono molto belli, molto leggeri. Io vendo bene anche la moda vintage adesso, è un mix di pizzi e di micado e di chiffon, è proprio un mix di tessuti, abiti un pochino più asciutti, non larghi. Però capita sempre la ragazza romantica che vuole il bel bustino, cristallo Swarovski, con una lampia, quest'anno abbiamo fatto una che ha una coda di 4-5 metri e abbiamo una ragazza che praticamente si sposa con la carrozza. Faremo tutto quel tema lì perché a lei piace l'abito romantico. Da noi la fantasia è il corpo, gli uomini poi non ne parliamo. Anche perché non dimentichiamoci che deve essere l'unico, si spera, il giorno più importante della vita di una coppia quindi l'abito deve essere assolutamente perfetto. Ci proviamo, ci proviamo, noi gli diamo l'anima. L'uomo è importante perché l'uomo viene sempre snobbato e io invece gli dico no, l'uomo deve essere forte perché se no esce come era lo sposo, no, devi dire come era lo sposo, cosa aveva di particolare e io lì vado a lavorare soprattutto sui colori. Quindi entrambi indimenticabili. Ci proviamo, ci proviamo. Le collezioni sono accuratamente selezionate al fine di assicurarle sempre il meglio della moda odierna. Il tutto avvolta da una cornice di gentilezza e collaborazione. Ad accompagnare questa sfilata chi ci sarà, Tiziana? Sentiremo la voce incredibile della soprano Elisabetta Cordella di Fossombrone conosciuta e apprezzata in Italia e all'estero. Il suo repertorio spazia dal genere operistico ai brani classici intramontabili. Signori e signori, ecco a voi Emotion Sposi insieme a Elisabetta Cordella! Prego! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti